I got no breath in love with you, cause you're beautiful tonight Bella ragazzi, bentornati qui nel secondo episodio di Random Sniping E direi subito di partire perchè ormai sapete tutti come funziona Per chi non lo sa, si vada a vedere prima il vecchio video Così capirà in cosa consiste Ok ragazzi, ha trovato la lobby, ci becchiamo appena inizia la partita Ok, escoci ragazzi, allora Dovremmo scegliere tra Morse 1 e Morse 4 Perchè il 5 l'abbiamo usato nell'ultimo episodio Quindi adesso non guardo, vediamo No 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 Quale è uscito? Morse Mirino Akog sarebbe il Morse 3 Ok Prima partita si inizia Devo dirvi che a me proprio il Morse Akog non mi piace affatto Anche perchè l'ho usato davvero poco Però Sono partito bene Eeeh 2-0 Diciamo già 2 Il record da battere 7 Col Ecco Sono proprio un camper, lo so perchè mi ero prefissato di mirarla N'ho visto uno Questo è forte, questo è forte Però direi che siamo partiti bene Comunque Siamo partiti davvero bene Dov'è? Madonna è difficilissimo da usare il Mirino Akog Non so perchè sparavo lì che il nemico era là Aspettate C'è mio Ma Quando diventa l'or La donna Non muore Lezzo 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 Com'è? Ah è qua eh Uno Due Mi si è bloccato il Mirino Perchè c'ho joystick che mi sta andando Tre Madonna Ce n'è uno qua eh Dov'è? Quattro Quattro Allora aspettate Aspettiamo che va via sta cosa Peggio dell'Ebola Cinque M'ha fatto Vabbè cinque dai Comunque Con l'Akog È tanto Ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Tu hai visto Tu hai visto Tu sei mio Uno Allora Allora Uno Non stavo killando Ma Ma visto prima lui Quanto pare Oh my god Dov'è? Ah ecco Questi fate Stai imparare Anche nello scorso episodio Sempre Sempre la chiamano Ma la chiamano anche quando Quando non devono chiamarla La chiamano Perchè Sono così loro Allora Aspetta Aspetta ho visto Ah eccolo Non lo vedevo Non Boh non lo vedevo Comunque abbiamo detto che il record per adesso è Quattro Un cinque Boh tanto dopo l'ora Nel riguardarlo È uno Non ho visto un altro Due Attenzione adesso Qua dentro Non so se quello che mi hanno sparato L'ho Ho rinunciato di brutto Uno Due No due No no Hitmark Tre Record per adesso in questa partita è Quattro Però diciamo che è andata meglio della partita È andata meglio del tuo Come possiamo dire È andata meglio della prima partita che c'è stato nel primo episodio Perchè aveva 15-10 Comunque è stato un buon risultato Col Mirino Acco che poi È ancora meglio Quindi ragazzi ci vediamo alla seconda partita Bella Ok eccoci qua ragazzi Scegliamo subito la classe Volevo Adesso che ci penso Volevo dirvi che Nell'ultimo episodio Quando c'era la tabella Se avrete notato Ho contato le morti E le uccisioni Dell'ultima partita Perchè Diciamo che Ho contato quella Nelle due partite Ho contato quella migliore Le serie di uccisioni Invece magari Se giocavo meglio la seconda Però nella prima Facevo più serie Contavo le prime Perchè alla fine Io conto Metto anche quelle robe lì Ma conto soprattutto Le serie di uccisioni Ok questa mappa qua In dominio È una roba Pazzesca Oh spavento Mamma mia L'ho cileccato di brutto L'ho cileccato di brutto Volevo capire Sta anche laggando Quindi Ascoltate Ce n'è uno là in fondo Dai Dai 02 Che schifo No aspetta Non vado di qua Ce ne sarà uno qua Invece no E anche qua Oh my god Ce n'è uno No Dov'era Ero convinto Che era quello lì Israeato Ma c'era un morto Dai Uno Che schifo Basta Con sta amp Dai vieni fuori Eh Ma dove esce Uno Ce ne sarà anche uno di qua Invece no Ho sentito uno sparo Da là Come ho fatto non prenderlo A parte il fatto che Era morto Due Tre Madonna ragazzi Avete visto Qui Trick Trick Sixti Non so se è proprio Da un 360 Ma Allora Mi sono Dov'è che sono qua Ah ecco Non mi ricordo più Che parte della mappa era Non ce l'ho mai stata Ho fatto schifo Madonna Se ho fatto schifo Uno Ce ne è ancora uno là Sicuro Sicuro come l'olio Ma non so Perché Com'è Madonna Madonna faccio davvero fatica Con questo occo Gio eh Davvero Non so Voglio capire Perché non muore Non muore E sono sicuro Di averlo preso Sono sicuro Di averlo preso Dov'è lo schifo Lo schifo Dei camper Questa Emp qua La odio Madonna Madonna Se la odio Ho fatto schifo Questa partita Ho fatto l'acqua Con l'audio Dai Uno Due O adesso Mai più No Dai Dai Venite fuori No Sono pure Pure Mirate Con camper Schifoso Tre 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 Oddio Non ho Lì dentro Quattro 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 Attenzione UAV Non so Faccio schifo Non so Mirate come un camper Quattro Basta Mi sa che Quattro Sarà Farle qui Che fa schifo Questo cecchino Davvero E ragazzi La serie Decisione più alta È stata Quattro Con questo cecchino Che Tutto sommato Non è proprio Male male Ecco Guardate Complimenti A ZA Kiko Che Fa parte La Kiko Fa parte Le battute Ragazzi Come al solito Raggiungiamo Almeno Dieci like Per Dieci mi piace Per farmi capire Che comunque Vi piace Come serie Che volete Che vada avanti Fino alla fine Se non sentite Qualcosa sbattere È Il cavo Delle cuffie Che non sto Mai fermo Lasciate nei commenti Una domanda Per il prossimo Fac E fatemi sapere Cosa ne pensate Ancora una volta Di questa serie Bella Ciao a te Non ti Grazie a tutti.